Eccoci qui. Eccoci qua, allora, Milano in onda, cronaca politica, parliamo di quello che succede intorno a quella che dovrebbe essere la capitale economica di questo benedetto o stramaledetto paese chiamato Italia. E ne parliamo con Stefano Gandolfi? Luca Gandolfi. Luca Gandolfi, un nome avevo da dire lo sbagliato, pensa un po', Luca Gandolfi, consigliere provinciale per l'Italia dei Valori in provincia, Italia dei Valori, un tempo un partito arrembante, aggressivo, attualmente ha mutolito, dov'è finita l'Italia dei Valori? Ma no, mutolito no, diciamo che forse abbiamo meno spazio sulla stampa e sui media in generale perché ovviamente quando si rimane fuori dal Parlamento è anche normale che i media diano più spazio a chi nel Parlamento c'è e non certo a chi rimane fuori. Però noi sul territorio ci siamo, nel partito sicuramente è una fase non semplice, ma le idee e le battaglie politiche continuiamo a portarle avanti con coerenza. Allora, vogliamo capire come un partito, insomma, un tempo molto presente, spero ancora, adesso lei mi dice giustamente, ma veramente io ci sono ancora qui, faccio politica, però insomma uno di quei partiti che sembrava voler svegliare l'Italia, vede questa sfida che è una sfida di cose ma anche di capacità di fare politica oppure no? Lei come la vede? Ma la vedo, da un certo punto di vista, dal punto di vista dell'Italia dei Valori, più complicata che in passato perché chiaramente quando si rimane fuori dalle istituzioni che contano, non dimentichiamo che siamo rimasti fuori anche dal Consiglio regionale, è chiaro che diventa più difficile la sfida, però abbiamo appena fatto un congresso, stiamo... Sì, c'è questo nuovo segretario, no? Sì, questo nuovo segretario, per inciso io avevo... E di Pietro adesso sta un po' dietro la siepe. Ma sì, fa il presidente onorario, però penso che questo non voglia dire che si metta da parte, semplicemente vuole dire che si impegnerà magari di più in quello che lo appassiona, tornare sul territorio, capire ancora di più l'umore dei cittadini, che sicuramente in questo periodo e su questo condivido non è certo dei migliori e giustamente non può essere dei migliori proprio perché la crisi della politica, non solo in Italia, perché purtroppo il vero problema è questo, c'è una crisi della politica nell'intera Europa e le ricette che l'Europa ha dato all'Italia da seguire si sono dimostrate fallimentari. E su questo noi lo avevamo detto fin da subito e forse siamo stati anche emarginati per alcune critiche che abbiamo fatto. E ha detto la politica che l'Europa ci ha dato, più o meno così, diciamo... La ricetta che l'Europa ha imposto all'Italia e che l'Italia ha accettato. La ricetta che noi, in quanto Europa, perché in Europa ci sono anche i parlamentari nostri, abbiamo un ministro che si occupa degli affari europei, un ministro degli esteri, che ci siamo fatti dare dagli altri perché contiamo come il 2 di picca briscola, quindi colpa nostra... Sì, sì, colpa di chi ci ha governato, di chi ci ha posto in queste condizioni, perché poi c'è sempre una storia della politica, sia a livello nazionale che a livello europeo, quindi non è che si può generalizzare sulle cause, ci sono delle cause precise, tanto è vero che c'è stato anche un passo indietro laterale di Berlusconi per mettere lì chi piaceva all'Europa, e poi Monti che noi abbiamo criticato... Sì, ma l'Europa ha fatto questo perché la politica italiana era peggio di questo, perché la politica italiana si è fatta imporre una politica europea in quanto si sentiva sotto scacco, perché c'aveva 2 mila miliardi di debiti da pagare, per questo è arrivato il signor Monti. Sì, però i debiti, mi permetta di ricordarlo, ce li avevano anche le banche, tanto è vero che le banche hanno preso miliardi dall'Europa e dall'Italia, perché uno dei provvedimenti del governo Monti, passato magari così nella distrazione generale, era 19 miliardi alle banche. Non sono nate come i funghi dopo un temporale, le banche italiane e i gruppi italiani si sono formati negli anni, in anni e anni, in cui qualcuno ha governato questo paese. Sì, ma no, se dobbiamo criticare chi ha governato questo paese stiamo dicendo la stessa identica cosa. C'eravate anche voi. Noi a dire il vero, quando noi... Sì, è l'unica cosa che è stata fatta decentemente negli ultimi anni che io ricordi. Siamo pieni di infrastrutture funzionanti? Però, beh, quanto ha governato, quanto è stato al ministro delle infrastrutture? Mica c'è stata una vita, mica ha fatto come Berlusconi che è rimasto al governo di questo paese per 17 anni. Ha fatto qualcosa oppure no, perché poco tanto c'è stato. Certo che ha fatto, ha dato la sua impronta per quel poco che è riuscito a esserci, purtroppo... Senta, la vedo reattivo, questo mi piace, mi dicono che lei è un'atleta che ama correre e marciare. Correre ultimamente un po' meno, faccio kayak, bici, nuoto... Qualcosa faccio, sì, 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 sì. Intanto fa anche politica, però... Beh, certo, è l'altra grande passione della vita. Comunque, mi piacciono le persone reattive, vediamo se ne ho un'altra al telefono, mischiamo un po' le cose. Cioè, qui si dice, la concorrenza in cui si dibatte il nostro mondo del commercio è truccata, è taroccata, perché le aziende che producono in Italia, con personale italiano, si trovano a concorrere con aziende ormai gigantesche. Vedi questa azienda francese che si è comprata prima a Cova, Milano e adesso l'Oropiana. Gigantesca nel senso che sono degli imperi immensi, con centinaia e centinaia di altre aziende che si occupano di queste, di quello, eccetera. E questi pagano le tasse in paesi dove le tasse sono un decimo delle tasse italiane e molti anche nei cosiddetti paradisi fiscali, che sono paradisi fiscali legali, cioè non è che ci va soltanto la mafia, ci vanno persone del tutto legali in giacca e cravatta semplicemente perché lì le tasse sono il 20% e non sono molto distanti da noi, perché la tassazione adesso è bassissima anche in paesi molto vicini alla Lombardia. E poi utilizzano manodopera che pagano un centesimo rispetto alla manodopera italiana, perché se vai in Vietnam e proponi 100 euro al mese a un operaio, questo fa i salti altri un metro e mezzo, perché gli altri guadagnano un dollaro quando gli va bene al giorno. Allora questa situazione è cresciuta e fa paura, anzi fa commercio, come vedete, compra aziende di primo piano. Eppure la politica non l'ha ancora affrontata. Allora si diceva, ma com'è che stiamo in questa situazione? Milano è sulla frontiera in queste cose, non a caso si parla di Cova, di Loro Piana, del settore moda, eccetera. Cioè noi dovremmo avere una discussione anche in provincia di Milano, credo, anzi soprattutto in provincia, che va su questi temi forti e invece non appare. Lei che ne pensa? Guardi, ha affrontato il tema delle imprese, della concorrenza di fatto sleale a livello mondiale. Questo diventa difficile risolverlo come problema a livello provinciale. Però nel nostro piccolo, anche come Italia dei Valori, stiamo cercando di fare qualcosa. Noi abbiamo, ad esempio, discusso nell'ultima seduta del Consiglio provinciale una mozione che avevamo proposto nel novembre del 2011, che è stata posta in discussione solo ora, per dare, ad esempio, stanziare dei fondi per aiutare le aziende che si trovano, aziende commerciali o artigiane, che si trovano nelle aree dei grandi cantieri e che ne subiscono le conseguenze. perché lei ben capisce che già siamo in un periodo di crisi economica, se ci si aggiungono anche le ulteriori difficoltà provocate dai cantieri, le aziende rischiano poi di fallire, è la classica goccia che magari fa traboccare il vaso. La mozione è stata rinviata ai noi in commissione per un ulteriore approfondimento. Spero che non sia la morte della proposta che abbiamo portato avanti. Va anche detto, per onestà intellettuale, che le casse della provincia piangono, come le casse un po' di tutti gli enti locali, perché poi bisogna sempre fare i conti su quelle che sono le risorse reali degli enti locali. I tagli che sono stati fatti dall'alto e a scalare hanno provocato una situazione in cui qualsiasi ente locale si trova in estrema difficoltà a fornire anche i servizi più elementari, quindi poi diventa ancora più difficile porre in essere idee pur condivise, pur buone per far ripartire le imprese se non si hanno neanche i fondi necessari. Quindi questa è la vera difficoltà della politica adesso, cioè il confronto con la realtà e le risorse sempre più all'umicino. Sentiamo questa telefonata, dopo vediamo cosa farebbe lei se fosse il Presidente della provincia di Milano, cioè dove spenderebbe i soldi pochi, dice che sono a disposizione, perché per la verità alcuni servizi importanti della provincia sono sulla graticola, quali i servizi affol, quelli che servono per trovare e cercare il lavoro oggi. Non è che proprio se ne parli in modo splendido, però prima le telefonate. E sarà sempre più dura, però se non la combattiamo, se non aggrediamo i problemi, siamo finiti. Questo è lo spirito con cui vivere in crisi. Ma sentiamo le risposte del Consigliere. Ma allora, io di domande me ne ero segnate più di una, nel senso che c'era anche quella che mi aveva fatto lei, cosa farei se fossi Presidente della provincia? Io glielo modifico subito, preferirei essere Sindaco della città metropolitana, ma fatta in modo molto diverso da come è al momento pensata e strutturata. Ma senta un po', la città metropolitana, ne state in effetti parlando, adesso in ballo di nuovo questa cosa, ma perché un cittadino si dovrebbe appassionare a questo tema? Cioè cosa cambierebbe per la gente comune passare dalla provincia alla città metropolitana? Il problema vero è che bisogna, come dico io, risettare il cervello, pensare in modo diverso, non pensare più in chiave di Milano città e Milano provincia, ma incominciare realmente a pensare in chiave città metropolitana. Certo, se la città metropolitana che vanno a porre in essere emargina i cittadini, perché di fatto non li fa neanche votare per scegliere né il Sindaco né i consiglieri della città metropolitana, beh allora forse c'è un problema nel termine, nel senso che non è la vera città metropolitana che si è teorizzata per anni, che dovrebbe essere un governo di area vasta sul territorio con una politica coerente e non più, come dire, limitata nei provvedimenti alla semplice, come dire, misura della città. Sono problematiche come lo smog, ad esempio, che si potranno risolvere solo, o dei trasporti, insomma, anche lo stesso tema del lavoro, si possono prendere provvedimenti che hanno un senso solo se si interviene sull'area vasta e in modo coerente. Il problema di come è pensata in questo momento la città metropolitana è che non potrà, intanto sicuramente non appassionerà i cittadini, perché nel momento in cui gli si esclude dalla scelta di chi li dovrebbero governare. Sì, però non lo so, non appassionerà i cittadini anche perché non emergono temi, non si discute o non si fa discutere di questioni reali concrete, perché alla fine... I temi ce ne sarebbero sul tema della città metropolitana e come... Non li proponete perché il vero tema che emerge è quello che ha detto lei, facciamo o non facciamo le elezioni e la discussione, facciamo le elezioni o non facciamo le elezioni. Ma le elezioni a cosa servono? A quello che interessa più a voi che a noi. No, 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 assolutamente no, le elezioni interessano o dovrebbero interessare i cittadini perché è quello il momento in cui si dovrebbero proporre soluzioni politiche tra loro magari alternative e poi i cittadini scelgono quali sono le loro preferite e in base a quello poi chi va nelle istituzioni dovrebbe governare, così dovrebbe funzionare la democrazia. Certo, se si crea un ente di secondo livello non si fa scegliere ai cittadini, né il sindaco metropolitano, né i consiglieri e questi sono i consiglieri o sindaci dei comuni della provincia, non sarà più un governo di area vasta ma sarà semplicemente un governo dei poteri forti di quel territorio e allora di sicuro sarà un fallimento. Le elezioni vanno fatte, mi sembra assurdo che qualcuno proponga di non farle perché se cambia l'organo decisionale è ovvio che nel sindaco, nel presidente della provincia possono ora essere quelli che faranno... però capisce che alla fine anche qui veramente il tema è appeso al nulla, perché non si capisce per cosa dovremmo andare a votare, perché cosa? Perché non parlate di temi... Trasporto pubblico. Eh, parlare di trasporto pubblico, con la città metropolitana il trasporto pubblico cambia completamente. Ma cambia concettualmente perché... Mi viene la voglia di andare a votare. Ma certo, ma perché... Ma se mi dice soltanto votiamo no... Prendiamo l'esempio del trasporto pubblico, si può ovviamente, ovviamente c'è un altro punto però fondamentale oltre al buco dei cittadini, che questo ente sia posto nelle condizioni di governare, per governare ci vogliono le risorse e quello è un punto che al momento è ancora abbastanza nebuloso, scuro, ce ne sono alcune di... Eh no, senza risorse... Risorse non ce n'è, non ce n'è in famiglia, non ce n'è in provincia, che dobbiamo fare? Bisogna industriarsi con le poche risorse che ci hanno. Ok, però è chiaro che questo pone dei limiti poi a chi governa. Trasporto pubblico, pensato in chiave di città metropolitana, è un'altra cosa rispetto al trasporto pubblico della singola città di Milano o anche dell'intervento che ci può fare il Comune. Si può pensare a questo punto di una rete di trasporti pensata in chiave metropolitana, quindi anche le stesse metropolitane che si diramano a rete lungo tutto il territorio offrono una possibilità di muoversi al cittadino, magari anche a costi minori rispetto all'uso dell'auto e della benzina per il costo che ha. Quindi, insomma, poi queste sono le questioni concrete su cui sarebbero chiamati i cittadini a discutere e a confrontarsi. Adesso guarda, è arrivato anche ad altro ottimo, quindi teniamo il confronto su questo tema, anche se appunto cerchiamo di offrire ai nostri telespettatori dei temi concreti su cui ragionare anche qui, però prima sentiamo, poi abbiamo anche l'ospite giusto per parlare di trasporto, diceva secondo me apputamente il tuo collega dell'Italia dei Valori, un'altro ospite che abbiamo. Ma c'è ancora? Sono qua. No, dico l'Italia dei Valori. Come no, abbiamo appena fatto il congresso, ho letto il nuovo segretario, siamo vivi e vedi. No, mi sono perso due passaggi, scusa, io ero rimasto, posso terminare l'articola mia? Perché sai, non mi sono ricandidato, ho dato spazio a un giovane, quindi faccio politica alla militante, ma mi sono perso questo passaggio fondamentale, io ero rimasto all'accessione in franchising del marchio Italia dei Valori ai singoli capatazzi territoriali, ma se tu mi dici è stato congresso, sono più rassicurato. C'è sempre Tonino? Tonino è in chiave di presidente onorario adesso, ma abbiamo un nuovo segretario. Chi è? Messina, Ignazio Messina, ex parlamentare, aveva già svolto anche un ruolo, come dire, organizzativo all'interno del partito. E siete trasformati in partito allora? Noi ci siamo, un partito movimento, una via di mezzo, mettiamo sempre a primo posto i cittadini. Un partito che è il movimento. Volevo chiarire, siccome non è il primo che ci fa questa domanda, ma esiste ancora in Italia dei Valori, ne approfitto, ne approfitto, perché purtroppo tutto è nato da una improvvida comunicazione dell'ufficio di presidenza dell'Italia dei Valori che aveva deliberato lo scioglimento del partito senza poterlo fare. E purtroppo questa notizia ha avuto un eco straordinario, come era ovvio che fosse, mentre la contronotizia dell'esecutivo nazionale che diceva che quella decisione non aveva alcun valore, che Italia dei Valori c'era, è invece passata sotto il silenzio generale. Quindi ne approfitto per dire Italia dei Valori c'è, ci saremo e continueremo ad esserci anche nel futuro. Sì, però io che sono un tradizionalista apprezzo questo aspetto glottologico. Il politburo del partito ha riaffermato la validità dell'esistenza del partito stesso. Certo, questa comunicazione ci ha, come dire, tirato qualche problemino supplementare. Andiamo a sentire, so che Maulo ha queste idee, so che condivide, condivide parecchio. Grazie signora, signora guarda, chiami quando vuole. Ma sono anche cose vere e giuste, però c'è anche la facciata B del problema, perché l'esperienza politica che giustamente, da un certo punto di vista, lei e Maulo dice ci vuole per fare bene la politica. Guardi che scusi, non è solo in politica, ma lei manderebbe mai. Ho capito, ma fino adesso ci avete portato al disastro questa esperienza politica. Allora, rimettiamo a questo, la politica non paga mai, l'esperienza è autoassolvente, l'esperienza deve andare di pari passo con il ricambio, è quello che è mancato nella politica italiana, è il ricambio. Guardiamo i risultati, questo è il problema. Nel momento in cui abbiamo avuto parlamentari che per 30 anni hanno continuato a sedere sulle poltrone più importanti d'Italia, senza concludere nulla, è lì il problema, cambiamo le persone e però non mettiamo l'ultimo arrivato che non sa nulla e non ha un minimo di esperienza. C'è gente che ha fatto politica, che ha fatto il suo percorso e allora cerchiamo di valorizzare le esperienze, ad esempio negli altri locali. Prego, da questo punto di vista non sono neanche completamente d'accordo con la signora. Peraltro se posso aggiungere una piccola cosa. Sì, velocemente perché devo dire la telefonata da ripausa. La signora ha parlato delle preferenze ma il discorso che facevo io prima non era sulle preferenze, era sul fatto che al momento per come è prevista la città metropolitana i cittadini non scelgono proprio nessuno, in nessuna maniera. C'è la discussione se ne fare o non fare le elezioni, però è una discussione che è un po' noiosa per chi non sta dentro la provincia o il comune, perché i cittadini devono avere un motivo per votare. Il motivo è poter scegliere chi per fare cosa, è l'ABC della democrazia, se si annoiano vuol dire che non apprezzano la democrazia e questo mi preoccupa. L'Expo non parla di come sarà, di cosa fare, cambieranno, cambieranno. Cosa c'entra l'Expo? Signora, signora, perché questo? Perché non puoi fare una iniziativa internazionale di quel genere e poi difendere un tipo di mentalità che è piccola così. Ma quelli che devono arrivare qua all'Expo, che io mi auguro da ogni parte del mondo, devono arrivare, vedere la città, lasciarci un po' di soldini perché magari comprono anche un po' di cose, aiutare la nostra economia. Non devono stare a bivacare dietro la metropolitana piuttosto che negli androni delle scale o creare problemi di questo genere, che è una cosa diversa. È la politica che gli consente di bivacare e creare problemi. Il territorio lo governate voi. È il massismo culturale di una certa sinistra. Quello che succede è colpa vostra. No, 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 è un atteggiamento. È un atteggiamento di lassismo culturale di una certa sinistra. Della serie, sei buono, bravo, allora ti dobbiamo aiutare semplicemente perché sei arrivato qua, poverino, e non hai nulla da fare. Ti diamo tutto. Guardi che sino a qualche anno fa... Non c'è la controprova. Scusi, scusi, scusi. Dove governa la destra non c'è sta roba? No, scusi, guardi... Soprattutto Milano è stata governata per vent'anni dalla destra, non mi pare di aver visto un film di vero. Non è quello il problema, è che tutti se ne fregano, non approfondano. Dica. E vorrei dire semplicemente questo. In qualsiasi paese d'Europa, attualmente, ma anche in passato quando i nostri ragazzi migravano, quindi quelli che adesso hanno 60-70 anni, che andavano in Germania, Svizzera, in Belgio a lavorare... bravo, non accadeva questo. No? No, assolutamente no. C'è arrivato il posto di lavoro e se facevi il birichino ti mettevano su una catapulta e ti rimandavano a casa. Succedeva esattamente questo. Facciamolo anche noi, fatelo però, dovete farlo. Non potete lamentarvi, voi dovete fare. Noi ci lamentiamo, voi fate. Allora, scusi, sin quando lo governavamo noi, il paese, da questo punto di vista, su Milano gli sgomberi erano all'ordine del giorno. Ma li spostavate da un luogo o da un altro? Posso, posso, posso. Sai qual è la tecnica però, scusa, mi permetti? Sì, no, prego. La tecnica è che quando io ti sgombero e ti rado al suolo quelle che sono capanne che creano solo problemi sanitari a te e agli altri che ci vivono, oltre che ai cittadini vicino, tu se vai da un'altra parte e ti risgombero un'altra volta, la quarta volta te ne vai fuori dalle balle e magari te ne torni pure in Romania. Ma forse c'è anche un problema di legislazione che non è stato risolto adeguatamente e lì governavate voi, eh. No, il problema, il problema... Quindi è evidente che avete delle responsabilità politiche. E vogliamo farle di spu, hai capito? Poi io ho visto che l'unico che ha risolto i problemi dei campi... Vuoi fare l'Expo sulla alimentazione, sulla fame del mondo devi fare l'Expo, Maulo? Scusi, no, no. Devi fare soprattutto il problema nazionale. Sulle energie alternative alla fame del mondo voglio fare. Ma non fate, non fate, non fate, non fate. Ma lei risulta... Non avete la mentalità? Ma tra i venti posso fare una domanda? Sì, dopo me la fai. Ma lei risulta che l'Expo sia fatto per la fame del mondo? Sì. Ma qual è che sta dicendo una cosa che non è vera col fare? Di nutrire il pianeta. Nutrire il pianeta. Com'energia per la vita. Nutrire il pianeta. Certo, ma mica devo cercare di risolverti il problema. Ma mica devo fare tutto quello che dovresti fare anche tu. Perché questo si chiama assistenzialismo. Scusami, però... Questo è vero. Secondo me la politica deve anche costruire una società capace di vivere in armonia con le sue diversità. E le diversità all'interno di una società ci sono, ci sono e non possono esserci. In più, tu mi parli di Expo di 20 milioni di persone che arriveranno. Mica penserai che siano tutte di religione cattolica. Ci sarà anche qualche... Ma avranno... Gli vorrai fare trovare una moschea per andare a pregare. Non c'è di problema. Se uno viene qua tre giorni... Se no, ha ragione Golfari quando dice allora non fare che... Se uno viene tre giorni qua per Expo, io l'unica preoccupazione che vorrei... No, non viene per tre giorni, l'Expo dura sei mesi. Sì, certo. Sei mesi, 20 milioni di persone. Voglio vedere un'amministrazione come gestirà questa... Ma ci giochiamo. Ma mica ti devo dire che questi che vengono sei mesi, vengono tutti nello stesso momento e stanno qua sei mesi. Faranno tre giorni come li fanno normalmente. La preoccupazione è mia. In contemporanea avremo una popolazione raddoppiata rispetto a quella normale. Sarà difficile... Ma io mi auguro che gli stranieri che... Ma guarda, comunque Grillo, se avanti così, non ne parleremo più. Adesso mi dispiace per il telespettatore. Lei che va spesso in Sardegna in vacanza, no? Soprattutto nel Nord Sardegna. Sì, ne parlavo ieri con il mio maggiordomo. Ho visto le foto di Grillo a Cala di Volpe. No, è una roba vergognosa. No, le dico questo perché. Perché siccome non è una località qualsiasi, Cala di Volpe... Che è, a lei è sardo, giusto? Sì, sardo, sì. Purtroppo non faccio le vacanze in quella parte di Sardegna. Cala di Volpe è una delle... Come? È un posto popolare, immagino. No, Cala di Volpe è una delle località più esclusive della Costa Sveralda. Sì, se lei digita sul suo computer, pure chiediamo aiuto all'amico dell'Italia dei Valori, di digitare Cala di Volpe... Sì, che serve l'Italia dei Valori. Cala di Volpe, quotazioni giornaliere... No, ma per cos'è? Adesso stiamo discutendo. Io non ho intenzione qui di dipendere Grillo. Ma è l'ipocrisia. No, beh, Grillo non si può dipendere questa storia che è andato da Napolitano che deve stare in vacanza a Cala di Volpe. Non può essere un poveraccio, lo sanno tutti, ha fatto i suoi guadagni facendo il mestiere di Comico, ha guadagnato bene, perché non dovrebbe andare in una località turistica esclusiva. Ha guadagnato bene, era solo male. Non se ne è risparmiata una neanche Berlusconi, con la differenza che Berlusconi ha regge sparse in tutto il mondo. Con una grande differenza, che il Cavaliere, con tutto il rispetto, non pretende di fare il moralista rispetto ad atteggiamenti di sobrietà o altro. Ha i soldi e se li gode. Grillo, che invece... E non fa il mistero dei festini. Posso dirti la verità? Ma io penso che uno a casa propria sia legittimato a fare tutto quello che meglio crede... Anche lei cade su questo occhio. Ma scusa, no, vai, ma per favore, dai. Non è. Ma siamo seri. Gli avevo messo una cucina. Ma siamo seri. Ma siamo seri. Ma secondo lei, è un paese come questo, dove c'è l'Andranghe, la mafia, la camorra e tutto il resto, deve occuparsi se il Cavaliere... Ma scusi, lei, Paolo Eubanetti, lei abita a Milano. No, io non mi occuperei se il Cavaliere pensasse anche a Milano. Il problema è che mentre governava il Paese, in piena crisi economica, pensava a quella cosa e allora forse è un problema certo. Mi spiace. Io soprattutto lo vorrei concentrato sul Paese in un momento in cui c'è una crisi economica che lui invece negava. Questo è passato remoto ormai. Scusi. Eh, sarà passato remoto, però tutto poi nasce anche da lì. No, no, però posso dire una cosa. E quindi, no, dobbiamo punire la cattiva politica. Caro Maulo, mi dispiace premiare la buona, ma punire la cattiva. Ma sono non d'accordo. Però lo devono fare i cittadini. Sono assolutamente d'accordo con lei. Purtroppo è il vero quesito. Come faranno i cittadini a fare queste scelte, a ripulire la politica dalla cattiva politica se non vanno a votare? Perché purtroppo il dato preoccupante è quello. Cioè la sfiducia nella cattiva... È tutto lì. Torni a bomba. È tutto lì. Siamo in chiusura. Perché se non vanno... Sì, siamo in chiusura. Allora, quindi, le elezioni europee arrivano la primavera prossima. Le elezioni a cui tanto tiene la nostra ospitità dei valori sono quelli per la città metropolitana. Non è che tengo alle elezioni, tengo a ricostruire un sistema che funzioni. Il problema non è solo quello di abolire le province o non abolirle. Il problema è mettersi lì a riflettere per ricostruire un sistema degli enti locali pensato non in chiave del risparmio, che poi in realtà il risparmio non c'è, ma di costruire un sistema efficiente, in grado di fornire servizi che funzionano. Perché è di questo che poi hanno bisogno i cittadini. Però purtroppo la politica in questi anni è fallita su questo, perché ha sbagliato anche l'obiettivo che si poneva. Si è posto l'obiettivo dei tagli invece che porsi l'obiettivo dell'efficienza. E' all'efficienza che bisogna puntare per ottenere risultati e far cambiare il paese e far ripartire l'economia del paese. Grazie. 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 Grazie.